Che cos'è l'archeologia marittima? Quali sono le discipline, le etichette apposte a discipline che in parte si sovrappongono a quello che intendiamo per l'archeologia marittima? Dunque, come definizione, io in genere uso quella del grande archeologo Keith McElroy, grande perché è un archeologo che è morto molto giovane, ha 30 anni, ma ha già scritto due manuali, uno fondamentale che usiamo ancora, un'archeologia marittima, e quindi ritengo che potesse diventare veramente una persona, un studioso rivoluzionario nel campo dell'archeologia marittima, lo è stato anche solo in pochi anni di attività, ma in generale in archeologia, era un allievo di David Clark, dell'università della scuola di archeologia teorica, dell'archeologia analitica dell'università di Cambridge, che ci ha dato questa definizione di studio scientifico dei resti materiali prodotti dall'uomo e dalle sue attività sul mare. Quindi una definizione di amplissimo respiro. L'archeologo marittimo si occupa delle tracce materiali, dell'evidenza materiale lasciata, come vedremo, in mare, ma non solo, anche in contesti, diciamo, marittimi in senso lato, dall'uomo, che ci permettono di ricostruire il rapporto dell'uomo con il mare. Questo studio concerne aspetti della cultura marittima non solo tecnici, come può essere, vedremo, la tecnologia navale, ma anche di tipo sociale, economico, politico e religioso. Un'altra definizione più restrittiva, in questo caso, di Shane McGrail, altra importante figura dell'archeologia marittima, altro studioso inglese. Lui è vissuto a lungo, ma purtroppo è mancato qualche anno fa, particolarmente attivo nel campo proprio dell'archeologia nautica, che dà questa definizione, studio scientifico, attraverso l'evidenza materiale, conservatosi di tutti gli aspetti della navigazione. Ecco, se vogliamo, una definizione che riduce un pochino il campo della ricerca, rispetto alla definizione di McElroy. Naturalmente l'oggetto di interesse è l'uomo, non tanto i manufatti in sé. I manufatti servono per conoscere il comportamento umano. Nella schema che ho impostato io, che vedete nella slide, si vuole mettere in evidenza la relazione tra l'archeologia marittima, che ha questa definizione amplissima, con altre, tra virgolette, discipline. Una di queste è l'archeologia navale, che si occupa, un po' come dalla definizione, la seconda definizione che abbiamo visto, solamente delle imbarcazioni. Non è poco, ovviamente, ma all'interno dell'archeologia marittima è ovviamente un campo più ridotto. Stanno fuori, per esempio, come vedremo, la portualità, lo studio delle infrastrutture marittime. A tutti gli effetti, quindi, l'archeologia navale, oppure nautica, un'altra etichetta che viene usata, per esempio, molto in America, la nautica, l'archeologia, l'instituto nautica-archeologia, di cui sentiremo parlare molto, che è questo centro leader mondiale che ha sede a College Station, nel Texas, nautica e navale, stanno dentro all'archeologia marittima. Quello che ci preme di più, però, è definire il rapporto con l'archeologia subacquea. Etichetta usatissima, più dell'archeologia marittima. L'archeologia marittima, guardate, l'ho introdotto io, non per vantarmene, ma così, per dovere di cronaca, in Italia, perché non era affatto popolare, era una definizione che circolava per lo più in ambiente anglosassone. L'ho importato in Italia, ad esempio, con l'etichetta del mio primo corso, nel 2001-2002, qua Ca' Foscari, e solo negli ultimi anni ha preso piede, per cui altri colleghi hanno acceso corsi con questa definizione. In realtà prima, e ancora adesso, andava molto di più l'archeologia subacquea. Ma questo confondere l'archeologia subacquea con l'archeologia marittima è un errore, un errore teorico che può portare a gravi incomprensioni. Perché? Perché l'archeologia marittima studia dei contesti, è una disciplina storica, che possiamo dire, definire trasversale, tematica, trasversale. Tematica perché si occupa di qualcosa, che è appunto la navigazione, il rapporto dell'uomo col mare, e trasversale perché è trasversale a tutte le discipline, e diacronica, perché, come vedrete, l'archeologo marittimo si occupa della navigazione dalle origini all'età moderna. Poi è chiaro che tante sono le conoscenze accumulate, la letteratura accumulata negli anni, specialmente negli ultimi vent'anni da questa disciplina, che fare i generalisti, occuparsi dell'archeologia marittima dalla preistoria all'età moderna, è un po' utopistico, è chiaro che ormai ci si specializza, ma nasce come disciplina assolutamente trasversale, tematica trasversale. Mentre, come scrive bene Gianfrotta, nel manuale che ha scritto con Patrice Pomè, nell'81, l'archeologia subacquea non è una sfera autonoma, sto citando Gianfrotta, né una disciplina archeologica, ma soltanto tecnica particolare al servizio dell'archeologia, tecnica che permette all'archeologia di estendere il suo campo di indagine all'ambiente subacqueo. Ecco, quindi, sia chiaro, l'archeologia subacquea è una tecnica di indagine, cioè è la tecnica che permette all'archeologo di estendere la ricerca in ambiente subacqueo. Non è una disciplina storica, viene confusa come disciplina storica. Per cui, nello schema che vedete, l'archeologia subacquea sta in buona parte nell'archeologia marittima, ma in parte anche fuori. Perché? Perché l'archeologo marittimo a volte, spesso, opera in ambiente subacqueo. I contesti, i reliti, i contesti, i riporti, le strutture, spesso sono sommerse. E quindi l'archeologo marittimo opererà con gli strumenti dell'archeologia subacquea. Ma, buona parte dell'archeologia marittima, come vedete, sta fuori, perché significa che l'archeologo marittimo lavora anche al di fuori dell'ambiente subacqueo. D'altro canto, l'archeologia subacquea può non insistere esattamente all'interno dell'archeologia marittima, perché può occuparsi di contesti non... cioè operare, offrire le sue tecniche di indagine per lo strutture di contesti non marittimi. Quali possono essere? Beh, sono quelli che ho riassunto nello schema, per esempio gli ambienti lacustri, gli ambienti fluviali e gli ambienti lagunari. Ora, ci sono punti di contatto, eh. Quando parlo di ambienti lacustri, per esempio, mi riferisco allo studio degli insediamenti per i lacustri di età preistorica. Non ha senso definirli archeologia marittima, vengono analizzati attraverso le tecniche della ricerca archeologica subacquea, ma sono contesti che interessano archeologi preistorici che si occupano di insediamenti di età preistorica, quindi tematiche che non hanno nulla a che fare con l'archeologia marittima. Però, qualcuno potrebbe dirmi, ma ci sono dei grandi laghi, anche in Italia, dove c'è una navigazione, pensiamo al lago di Garda, ci sono areelitti, e quella che cos'è? Archeologia lacustre oppure archeologia marittima. Lo stesso per i fiumi. I fiumi possono essere studiati da un punto di vista non marittimo. Se io vado a studiare un insediamento, diciamo, in origine terrestre, che poi per le divagazioni del fiume si trova sott'acqua, lo indago con gli strumenti dell'archeologia subacquea, ma non lo indago con le problematiche storiche dell'archeologia marittima. Ma è anche vero che dentro un fiume posso trovare dei areelitti. I fiumi sono collegati, in genere, sboccano in mare. Spesso le imbarcazioni entravano nei fiumi, risalivano i fiumi, per andare a portare merci e beni nelle città lungo i fiumi. Bene, quello che l'archeologo si occupa di un areelitto che sta sull'alvio di un fiume, magari a pochi chilometri dalla foce che sbocca in mare, è un archeologo marittimo o un archeologo fluviale? Ora, a mio avviso, è chiaro che in questo caso dobbiamo essere un po' elastici e usare, far rientrare queste tematiche all'interno delle tematiche dell'archeologia marittima. Lo stesso per l'archeologia lagunare. L'archeologia lagunare, che noi conosciamo bene perché è molto praticata a Venezia, si occupa per lo più di problematiche insediative, quindi tematiche tradizionali dell'archeologia per quel che riguarda il periodo medievale piuttosto che alto medievale o romano, ma in laguna possiamo avere relitti pochi, ma possiamo avere relitti navali, strutture portuali, quindi tematiche, problematiche storiche che richiamano tematiche più ampie di ordine marittimo. Ecco che l'archeologo marittimo, come in questo caso è sottoscritto, che ultimamente sta lavorando molto in laguna, lavora in un ambito che non può essere definito l'archeologia lagunare, se non per gli aspetti operativi, ma che è quello dell'archeologia marittima. Ecco, quindi non facciamoci condizionare le etichette, perché per forza di cose sono elastiche, però è importante che non confondiate l'archeologia subacqua, che è una tecnica, con l'archeologia marittima. Ecco, questa è la cosa, forse, che mi preme di più di tutto questo discorso. E vediamo gli ambiti di interesse della disciplina. Intanto perché studiamo l'archeologia marittima? Alcuni degli aspetti forse più importanti che motivano l'interesse per questa disciplina sono l'importanza del mare come elemento di collegamento tra le civiltà. Un mare che in antico, nel Medioevo, insomma, fino a un paio di secoli fa, Scarsi, era veramente un elemento di collegamento. Una città sul mare, era collegata con il resto del Mediterraneo, noi ci dedicheremo molto al Mediterraneo, bene, una città marittima, sul Mediterraneo, era ben collegata attraverso la navigazione con le altre città. Una città, invece, lontana dal mare, era tagliata fuori da questa circolazione. una circolazione non solo di merci, ovviamente, ma una circolazione di saperi, di persone che si muovono e che quindi trasferiscono conoscenza, idee. Quindi studiare la navigazione e la vita in mare significa approfondire tutti questi aspetti. Oggi forse abbiamo perso un po' questo concetto di mare come elemento di collegamento. Il mare viene visto, anzi, come un elemento divisivo, no? Il mare è pericoloso, rimane pericoloso, meno del passato, sicuramente, ma ha dei suoi pericoli. E quindi noi abbiamo, per quanto il mare sia meno pericoloso oggi, sicuramente, che in passato, però noi abbiamo mantenuto questo timore, no? Per la navigazione che avevano, ovviamente, anche i nostri ave, ma che, spinti dalla necessità, in realtà superavano. Noi, invece, abbiamo questo freno perché, d'altro canto, questa paura non è bilanciata da un'esigenza particolare di usare, tra virgolette, il mare. Perché? Perché ci muoviamo con gli aerei, ci muoviamo con le automobili, con i treni. Quando questo non era possibile, dobbiamo cercare di immedesimarci in cos'è il Mediterraneo, il mondo, prima dell'avvento, insomma, delle ferrovie e della costruzione di strade praticabili da mezzi a gomma. Tutto circolava su via mare, le merci e le persone circolano via mare. Era molto difficile, come vedremo, far circolare merci a terra perché i tempi di circolazione erano enormemente più lunghi e quindi molto meno economici, a volte impossibili, i costi erano molto più alti e i pericoli, spesso, a seconda dei periodi storici, erano anche superiori rispetto a quello che era il rischio fisiologico della navigazione. Le civiltà si sono sviluppate prevalentemente lungo le coste perché il mare è anche, oltre che elemento di collegamento, anche fonte di sussistenza. Quindi quando andiamo a studiare qualsiasi società dobbiamo, per forza di cose, tocchiamo aspetti della cultura marittima e quindi è importante che ci sia una disciplina che mette a fuoco questi aspetti e li studia trasversalmente, senza limiti geografici e senza limiti cronologici e mettendo a fuoco gli aspetti più importanti. In questo contesto, quindi, di studi marittimi, l'imbarcazione ha chiaramente, svolge un ruolo fondamentale. È l'elemento di collegamento, il vettore di collegamento, un mezzo sofisticato, la tecnologia in antico, ma anche adesso, tutto sommato, si concentrava, specialmente, per quel che riguarda le imbarcazioni marittime, si concentrava molto sulla nautica per sviluppare il più possibile imbarcazioni sempre più capienti, sempre più veloci, sempre più sicure. E quindi, se noi studiamo un'imbarcazione, studiamo molto della tecnologia antica. anche se, come vedremo tra poco, non solo. Questo è l'aspetto più scontato, apparente, ma poi ci sono altri aspetti interessanti, non solo tecnici. Come ci ricorda John Adams, nel suo bel libro, i cambiamenti della società, quindi, possono essere compresi studiando questi sviluppi tecnologici navali, e le varie trasformazioni, e i momenti di stasi. Una tecnologia che si è sviluppata di nuovo grazie alla circolazione delle navi, quindi la possibilità che le conoscenze di costruzione navale circolassero velocemente all'interno, per esempio, del Mediterraneo. Ecco che, su un'imbarcazione, noi possiamo trovare aspetti costruttivi, tecniche, metodi costruttivi, comuni all'interno Mediterraneo. Poi vedremo, abbiamo le tradizioni regionali, ma una nave già nel mondo greco, arcaico, si muove per tutto il Mediterraneo, o per gran parte del Mediterraneo, e quindi, muovendosi, porta in giro la sua conoscenza, no? nei porti, i maestri di Dasha potevano vedere queste barche, le imitavano, le copiavano, e quindi la circolazione di conoscenza nella cantieristica era veloce e ad ampio raggio. Come ci ricorda ancora John Adams, la costruzione navale è una spia importante per conoscere, studiare i cambiamenti sociali attraverso, appunto, questo elemento di contatto e di scambio di idee. Quindi, l'imbarcazione può essere studiata non solo da un punto di vista tecnologico, che è, diciamo, l'aspetto più ovvio, l'aspetto utilitaristico, no? Ma anche può essere studiata attraverso altri aspetti meno scontatti. Beh, possiamo studiare le tradizioni, tradizioni costruttive, in questo caso. Possiamo studiare aspetti economici, l'impegno nella costruzione di una nave è importante, può essere un impegno enorme se pensiamo grandi vascelli reali, militari, come la Vasa. Quindi, un impegno economico importante con messa a disposizione di risorse naturali a volte non facilmente reperibili e qui entriamo anche in contatto con aspetti ambientali perché per costruire una nave c'era bisogno di molto legno in terre foreste. La costruzione navale già con i romani ma ancora di più nel Medioevo impatta pesantemente l'ambiente l'ambiente europeo viene pesantemente europeo fino a compreso l'Inghilterra viene pesantemente impattato dalla corsa alla costruzione navale militare ma non solo che comporta il taglio di intere foreste specialmente degli alberi più antichi più vecchi quindi deforestazioni importanti che conosciamo bene anche nel territorio veneto dove la Serenissima ha utilizzato per secoli non solo per costruire fondamenta edifici ma anche per costruire le imbarcazioni ha utilizzato ampi porzioni di territorio querceti e piante resinose per costruire vari elementi dell'imbarcazione un controllo di questa risorsa fatto in maniera molto organizzata dalla Repubblica in particolare ma non solo che prevedeva suddivisioni del territorio figure preposte al controllo leggi che prevedevano punizioni severe per chi tagliava alberi senza autorizzazione e quindi metteva a repentaglio la sicurezza della Repubblica se la nave militare è un'arma strategica per la Repubblica il legno per costruirla è materia che va tutelata dallo Stato in maniera molto seria le materie prime che non sono solo legno possono essere anche il metallo il ferro per i chiodi più avanti il bronzo sempre per i chiodi perni il piombo per alcuni periodi storici per il rivestimento in lamina degli scaffi ecco quindi tutte queste materie queste materie prime quindi comportano di nuovo un impatto ambientale e sono oggetto di grande interesse per quel che riguarda di nuovo gli aspetti tecnologici pensiamo alla tecnologia siderurgica per ricavare questi minerali questi materiali e poi per lavorarli ma oltre a questi aspetti utilitaristici la nave presenta anche aspetti meno pratici che sono tematiche di tipo estetico simbolico religioso se pensiamo alla nave vasa con le sue sculture nella specchia di poppa vediamo un'imbarcazione non è la prima perché è una cosa abbastanza frequente che viene su cui vengono applicate delle sculture raffinate che avevano un valore particolare dovevano incutere timore ai nemici e quindi avevano un valore non certo pratico ma del tutto simbolico altre sculture hanno un valore religioso richiamano motivi religiosi quindi di nuovo insomma l'imbarcazione ha degli aspetti che non sono sempre gli aspetti più scontati diciamo di tipo tecnologico pratico ma anche aspetti simbolici ritornando sui tematismi quindi sicuramente uno degli aspetti più importanti nell'archeologia marittima è quello dell'evoluzione della tecnologia navale che viene studiata come vedremo attraverso principalmente i resti dei relitti sott'acqua o il contesto continentale ma anche come vedremo attraverso le fonti tradizionali quindi in particolare l'iconografia navale e qualcosa anche attraverso le fonti scritte tema molto importante si è detto è la portualità specialmente negli ultimi anni il tema della portualità ha avuto un interesse intenso da parte degli archeologi penso ad esempio al convegno che è stato organizzato in Spagna quest'inverno sulla portualità di età romana che è stato un convegno che ha durato alcuni giorni intensissimo a cui abbiamo preso parte anche noi con il porto di Altino che stiamo studiando da un paio d'anni un convegno durante il quale sono state presentate centinaia di studi supporti romani quindi tema sicuramente in via di sviluppo e che di nuovo viene affrontato come vedete chiaramente dalle due immagini sia attraverso l'evidenza archeologica sommersa pensiamo al porto di Cesarea che attualmente è sommerso sia attraverso lo studio di siti del tutto interrati perché queste strutture e qui arriviamo a un aspetto importante dal punto di vista del metodo perché queste strutture stanno sott'acqua o sono interrate sono interrate quando abbiamo in genere un avanzamento della linea di costa specialmente dovuto agli apporti fluviali importanti apporti fluviali come nel caso di Fiumicino dove l'avanzamento gli apporti portati dal Tevere hanno comportato un avanzamento importante della linea di costa e quindi un interramento completo questo già in antico del porto di Claudio ma andando molto oltre per cui il porto di Claudio giace sotto le piste di decollo del porto di Fiumicino e quindi è stato oggetto di studi in passato ma specialmente di recente con il grande progetto di Samuel Kay che prende il nome di Portus è stato oggetto di indagine appunto attorno all'aeroporto di Fiumicino con le tecniche dell'archeologia di terra assolutamente perché non ha nulla di subacqueo questo questo studio mentre a Cesarea abbiamo una situazione opposta il porto è chiaramente porto marittimo in buona parte artificiale quindi si era costruito sono costruiti due grandi moli sul in mare ma fenomeni di subsidenza e di eustatismo hanno fatto sì che come accade in buone parti del Mediterraneo le strutture antiche giacciono a qualche metro sott'acqua l'eustatismo lo conosciamo bene perché è un tema molto attuale l'avanzamento progressivo del livello del mare la subsidenza è un fenomeno di abbassamento del terreno in genere abbassamento ma non è sempre abbassamento il compattamento del terreno spinto specialmente dalla compressione del costruito ma non solo anche questo lo conosciamo bene a Venezia dove abbiamo che si somma l'eustatismo la subsidenza questi due fenomeni fanno sì che nel Mediterraneo le strutture di età romana per esempio giacciono a qualche metro di profondità cioè che i livelli di calpestio cioè quei livelli che erano all'asciutto in antico in età romana siano a qualche metro sott'acqua mentre lo statismo è un fenomeno ovviamente comune a tutto il Mediterraneo a tutto il globo ma con situazioni diverse ma uguali nel Mediterraneo la subsidenza invece va studiata puntualmente regionalmente perché ha situazioni abbastanza diverse da regione a regione altro tema che abbiamo citato è quello delle infrastrutture navali quindi tutto il costruito dell'uomo lungo la linea di costa al servizio del mare quindi cantieristica luoghi di costruzione e ricoveri per le imbarcazioni ora le navi sono sempre state costruite navi in legno sono sempre che state costruite lungo le spiagge all'aperto mai al coperto anche perché avrebbero avuto bisogno di edifici enormi per costruirle caso molto particolare è l'arsenale di Venezia dove si costruiva anche al coperto ma le grandi navi da carico erano sempre costruite all'aperto si costruiva al coperto eventualmente le navi militari sicuramente medioevo arsenale di Venezia forse anche in antico dell'antico in particolare dell'età greca abbiamo molte testimonianze di edifici per ricoverare non sappiamo se costruire probabilmente solo riparare e ricoverare imbarcazioni militari e sono gli edifici che vedete nell'immagine tra i grandi campannoni delle grandi tese come quella di Oinidai in Grecia che vedete ancora conservata perché in buona parte incisa nella roccia in parte costruita e la ricostruzione assonometrica che vedete a destra che è alla mia destra scusate alla vostra a sinistra che è una quindi la ricostruzione di un edificio molto semplice sono divani lunghi e stretti con delle coperture integole che servivano quindi a proteggere queste imbarcazioni come vedremo tutte le città greche avevano la loro piccola flotta e quindi il loro piccolo ricovero per imbarcazione i romani non erano da meno avevano i loro ricoveri navali chiamati navalia di cui però non si è conservato nulla almeno apparentemente non c'è nulla di evidente se non qualche richiamo da parte degli autori antichi e un paio di immagini di diciamo di iconografia che richiamano questi edifici un'altra aspetto interessante dell'archeologia marittima è lo studio della pesca specialmente attraverso quelle strutture importanti monumentali lasciate dall'uomo specialmente in età romana lungo le linee della costa mediterranea si tratta di impianti che possiamo chiamare piscine per l'allevamento dei pesci vivi quindi e quindi strutture costruite in mare con collegamenti con l'acqua di mare per permettere una circolazione dell'acqua che impedisse i pesci ai pesci di morire ma nello stesso tempo li tenesse prigionieri all'interno di queste vasche quindi vasche costruite incise sulla roccia quindi ben conservate per questo e in parte o del tutto costruite con pietre ma perché se andiamo a vedere come viene trattato in altri paesi specialmente fuori dal Mediterraneo ci rendiamo conto il peso storico che viene dato allo studio delle artiglierie e quindi delle artiglierie navali lo studio delle artiglierie navali significa ancora una volta non solo aspetti tecnici ma anche altri aspetti l'archeologia navale implica ovviamente tecnologia raffinata nelle armi è chiaro che la tecnologia dà il massimo e quindi le artiglierie anche della Repubblica che vedete della Serenissima erano nel 500 e nel 600 erano tra le migliori al mondo venivano vendute anche agli altri paesi e permisero alla Repubblica di espandersi di controllare a volte anche senza sparare di controllare il Mediterraneo una tecnologia raffinata che ci implica studi di tipo archeometallurgico sul bronzo sulle leghe di rame ma sul ferro quando entra in gioco l'artiglieria in ferro prima affucinato e poi successivamente bronzo fuso ma sull'artiglieria navale noi troviamo anche aspetti decorativi la Repubblica di Venezia era molto parca da questo punto di vista la vedete anche in queste immagini si tendeva a decorare poco le artiglierie mentre altri stati si sbizzarrivano su alcune artiglierie e quindi abbiamo oggetti che sono veramente delle opere d'arte poi sull'artiglieria possono essere richiamati aspetti particolari come il peso la data la data di fusione oppure i fonditori quindi interessante lo studio delle famiglie veneziane di fonditori che hanno prodotto le artiglierie in secoli oppure i fonditori di altre nazioni molto per esempio se si sta lavorando molto sul caso genovese la famiglia dei Gioardi mentre a Venezia erano due le famiglie che si contendevano nel monopolio di questa produzione che sono gli alberghetti e i diconti poi i diconti sono sostituiti dai mazzaroli e quindi si entra ovviamente in un campo storico che nulla a che fare se vogliamo con aspetti prettamente militari anche perché questi fonditori quando fondono pezzi di artiglieria fondono oggetti raffinati di lega di rame e quindi ogni tanto si dedicano anche a opere d'arte per cui a Venezia molti pezzi artistici di bronzo sono stati fusi da questi fonditori militari pensiamo alle vere da pozzo di palazzo ducale nel cortino di palazzo ducale le vere da pozzo sono state fuse da queste famiglie di fonditori militari lo stesso la base della bandiera di fronte alla porta di terra dell'arsenale molti arredi liturgici importanti in alcune chiese veneziane ecco quindi erano tutto sommato degli artisti non solo dei produttori di armi e poi c'è un aspetto commerciale perché questi oggetti a volte vengono trovati nelle navi comunque sappiamo che venivano trasferiti anche a lunga distanza perché erano venduti erano rubati rimanevano a bordo delle navi anche per qualche secolo perché l'artiglieria va sempre bene possiamo trovare le navi con artiglierie vecchie di due secoli questo è successo anche nella seconda guerra mondiale nella prima usavano pezzi i paesi diciamo meno preparati sul piano militare usavano pezzi di almeno un secolo prima anche di più ecco quindi tanto più nel nel cinquecento nel seicento nel seicento usavano pezzi di artiglieria anche vecchi pezzi appunto rubati saccheggiati da altre navi da fortezze oppure venduti la repubblica come vi ho detto leader europeo nel cinquecento e in parte le seicento nella produzione in bronzo insieme ai tedeschi poi qualche pezzo ogni tanto lo faceva uscire privatamente cioè i fonditori privati che lavoravano per lo Stato ogni tanto vendevano qualche pezzo fuori anche ad altri Stati altro tema è quello dell'attrezzatura navale quindi quando io studio un relitto di un'imbarcazione lo posso studiare da un punto di vista tecnologico nautico tecnologico se studio lo scafo ma parte di questa dell'imbarcazione sono le cosiddette attrezzature l'equipment in inglese cioè l'apparato velico le ancore gli attrezzi gli utensili per la navigazione che possono essere studiate diciamo come materia a sé ad esempio sulle ancore sono stati scritti fiumi di inchiostro perché perché le ancore sono oggetti frequentissimi in mare le navi spesso perdevano le ancore le ancore erano collegate fino alla metà dell'ottocento erano collegate non con delle catene ma dei cavi i cavi le corde venivano quindi le cime venivano tagliate in caso di pericolo in caso di se si avesse fretta oppure se si impigliavano e quindi il mare mediterraneo è ricchissimo di ancore specialmente di età romana ma non solo un aspetto molto particolare della dello studio dei relitti è la vita a bordo che viene studiata quindi attraverso quegli oggetti che riusciamo a distinguere dal carico non è sempre facile distinguere gli oggetti dal carico abbiamo delle spie per farlo ma questi oggetti sono importantissimi per conoscere il comportamento dell'uomo a bordo di una nave attività che doveva andare avanti in alcuni casi per settimane nel caso della navigazione oceanica erano mesi di vita a bordo quindi quando ho studiato un vascello nel 700 600 naufragato nell'oceano potete trovare oggetti che sono serviti veramente per lunghi periodi di permanenza nel Mediterraneo la situazione è un po' diversa la navigazione era più breve ma comunque poteva interessare parecchi giorni o settimane e ci permette di studiare l'uomo sotto vari punti di vista tutti i punti di vista perché a bordo uno si portava tutto quindi da oggetti per la cura personale anche oggetti per intervenire dal punto di vista medico perfino abbiamo oggetti chirurgici oggetti personali che richiamano delle persone anelli monete che possono definirci anche le persone se non persone di rango maschi femmine naturalmente ricca in genere l'apparato l'attrezzature della cucina usate per cucinare a bordo per l'alimentazione di bordo oggetti di metallo di ceramica o di pietra come il mortaio che vedete e che ci permettono quindi di studiare queste varie sfaccettature della vita a bordo ricostruendo anche eventuali gerarchie di bordo che c'erano in alcuni casi e servivano a mantenere l'ordine e quindi rispecchiavano poi la società anche per tra l'equipaggio per garantire la gerarchia l'ordine servivano per garantire la sicurezza gli ordini chiari rapidi a bordo di una nave tutto deve essere ordinato il caos crea pericolo la poca chiarezza crea pericolo se io parlo una lingua diversa non mi faccio capire dagli altri marinai rischio di non riuscire a governare la nave in caso di pericolo può essere fatale ce ne rende conto anche al giorno d'oggi le difficoltà di comunicazione avute sulla costa Concordia e anche forse un po' la poca maturità dell'equipaggio pare abbiano creato delle situazioni di pericolo non so se poi hanno comportato il disastro che sappiamo ma secondo alcune hanno avuto un peso la qualità degli equipaggi delle imbarcazioni della crociera negli ultimi anni è scesa perché vanno a reclutare in maniera più approssimativa magari tra persone che non hanno grande esperienza di mare magari non sono proprio persone di mare e poi vengono formati in maniera molto rapida e anche la comunicazione verbale a volte non è così immediata ecco un'ultima categoria di oggetti sono quelli che troviamo e che a bordo delle liti che si riferiscono proprio all'aspetto del pilotaggio nautico non sono tanti per lo meno per il mondo antico abbiamo ben poco perché i romani navigavano molto per esempio basandosi sulla profondità quindi lo scandaglio quello che vedete è un oggetto semplicissimo che mi serve a recuperare a sapere a che profondità siamo e recuperare dei sedimenti con del grasso che veniva messo all'interno di questa sorta di campana questi sedimenti rimanevano impigliati nel fango e quindi io sapevo che tipo di fondale avevo ecco sulla base di questo già avevano informazioni importanti per la navigazione poi si guardavano le stelle di notte il volo degli uccelli le correnti non c'erano carte nautiche ecco quindi sono pochi gli oggetti che mi permettono di ricostruire la storia di navigazione nel mondo antico poi se ci avviciniamo con l'età moderna invece questi oggetti sono più ricorrenti ora abbiamo visto che il relitto ci restituisce oggetti che ci permettono di ricostruire la vita di bordo la navigazione le tecniche di navigazione naturalmente abbiamo visto la nave in sé ma se una nave è una nave commerciale a bordo avremo il carico quindi l'archeologia marittima di fatto comprende anche lo studio della circolazione delle merci è chiaro che è un mondo è un po' difficile dire che l'archeologia che studia il traffico delle merci sta nell'archeologia marittima perché sarebbe pretestuo troppo ambizioso la letteratura che ormai viene prodotta su tematiche anche molto particolari sono come le anfori di età romana è talmente vasta che bisogna specializzarsi se non in singoli tipi di anfori almeno in periodi di produzione di anfori e quindi però diciamo che concettualmente l'archeologia marittima comprende anche questo infatti abbiamo archeologi marittimi che lavorano per esempio su questi temi cioè sulla circolazione dei prodotti sappiamo sappiamo tutti che l'oggetto più ricorrente a bordo sui relitti è sicuramente l'anfora un contenitore di ceramica largamente usato nel mondo antico ma anche nel medioevo che serviva a contenere prevalentemente vino olio ma non solo e che da un lato è un oggetto quasi poco deperibile che quindi facilmente si conserva bene sott'acqua facilmente visibile quindi mi permette di vedere il relitto d'altro canto mi permette anche di proteggere lo scafo quindi se io trovo un carico di anfore sotto probabilmente avrò anche lo scafo oggetti organici protetti dal carico di anfore mentre periodi in cui le anfore non erano più utilizzate quindi diciamo il medioevo maturo e successivamente sono molto più poveri di testimonianze di relitti purtroppo quindi abbiamo una sproporzione enorme tra le testimonianze di età romana greca e le testimonianze di età medievale ancora peggio per i secoli successivi questo perché è proprio per l'assenza delle anfore l'uso dell'introduzione della botte per far circolare i liquidi e la sparizione delle anfore provoca questa discresia anche a livello di evidenza archeologica cioè l'impressione che avremmo se noi guardiamo i grafici delle datazioni dei relitti trovati nel Mediterraneo e pare che in età romana circolassero come poi non circolaranno più nei secoli successivi non è così circolavano anche dopo le merci le navi il problema è la visibilità la visibilità dell'evidenza archeologica cambia radicalmente è curioso come l'artiglieria navale che compare alla fine del Quattrocento perché le artiglierie compaiono fino al Quattrocento torni a rendere evidente i relitti nel Mediterraneo perché? perché le artiglierie sono oggetti non deperibili facilmente visibili e quindi se voi guardate le datazioni avete un crollo con il V VI o VII secolo sempre meno e poi con il Cinquecento tornano i relitti perché? forse circolava qualche nave in più ma perché abbiamo la visibilità data delle artiglierie io stesso mi sono occupato molto delle artiglierie veneziane e quindi ho studiato relitti cinquecenteschi al limite a seicenteschi dopo la questione di interessi ma continuano i relitti e quindi è chiaro che l'immagine che abbiamo della circolazione delle navi dei beni nel Mediterraneo nel corso dei secoli è condizionato dalla videnza archeologica dalla visibilità del record archeologico questo è un elemento che dobbiamo sempre tenere ben presente vediamo quali sono le relazioni tra l'archeologia marittima e altre discipline allora l'archeologia marittima è la disciplina archeologica che qui si comporta come metodo come tutte le discipline archeologiche è chiaro però se vogliamo trovare un aspetto così originale possiamo dire che la sua per esempio la sua attenzione per la fonte etnografica è superiore a quella di altre discipline archeologiche forse la pari della preistoria cioè l'archeologo marittimo da sempre guarda molto ha le testimonianze ancora presenti o documentate dalle da video da riprese in bianco e nero da fotografie da interviste di un aspetto della navigazione o anche del costruito marittimo che è ormai arcaico che è scomparso sta scomparendo ma che ci permette di rispondere a delle domande sul mondo più antico quindi la fonte etnografica in funzione di rispondere a domande di un passato più antico e quindi viene molto considerata dagli archeologi a Venezia ha un peso particolare perché l'ambiente lagunare è particolarmente conservativo a Venezia si conservano imbarcazioni di legno con tipologie che sono anche molto antiche pensiamo alle cavane che sono questi ricoveri per le barche ne abbiamo trovata ne hanno trovata una di età romana vicino a Rovigo noi ne abbiamo scavata una a San Giacomo in Paludo in un'isola a nord di Murano del 1200 quindi è una struttura molto semplice che però ancora adesso viene utilizzata ovviamente tutelata anche dalla sua intendenza e quindi sono tutte occasioni di confronto per rispondere a quesiti posti del mondo antico come tutte le discipline archeologiche si confronta molto con la diciamo gli aspetti storico-artistici dell'archeologia in particolare perché va a vedere quelle immagini bidimensionali o tridimensionali tridimensionali nella statuaria tutto tondo per esempio che raffigurano specialmente imbarcazioni e che ci mostrano aspetti dell'imbarcazione che i relitti non conservano i relitti in genere si conservano nella parte più bassa cioè l'opera viva quello che sta sotto il pelo dell'acqua i processi di degrado come vedremo tendono a far sparire le sovrastrutture i ponti gli alberi le timonerie ma di queste parti in realtà ci parla molto l'iconografia le fonti tradizionali l'iconografia che è indispensabile per conoscere nell'insieme l'imbarcazione quindi quando andrò a tentare anche degli studi ricostruttivi completi ecco che dovrò per forza attingere sia la fonte etnografica per avere ispirazione ma moltissimo la fonte iconografica bidimensionale o tridimensionale abbiamo detto in precedenza come l'archeologo marittimo debba avere delle conoscenze di base di scienze della conservazione perché si occupa di materiali che provengono o da ambienti subacquei oppure più delle volte da ambienti umidi ambienti umidi cioè terreni umidi dove il materiale organico o il materiale metallico si è conservato in condizioni di anossica cioè di mancanza di ossigeno questo ha favorito la conservazione ha permesso quella conservazione che un archeologo diciamo Tucur raramente ha la fortuna di trovare ma queste condizioni conservative devono essere mantenute quindi come abbiamo detto conoscenze di base per quello che gli inglesi chiamano first aid on marine finds primo intervento come un pronto soccorso di quello che tiro su dal mare dall'acqua e successivamente dialogo conoscenze di base per il dialogo con i restauratori che lavoreranno per il consolidamento e il mantenimento di questi materiali che possono essere materiali organici che quindi hanno problematiche legate alla conservazione del materiale biotico organico oppure in organico e lì cambia completamente ambito perché siamo nell'ambito specialmente dei metalli quindi degrado delle leghe di rame del ferro e quindi sostanzialmente processi corrosivi l'archeologo l'archeologo marittimo dovendo lavorare su scafi quindi su legno quindi su materiale vivo si confronta con gli scienziati duri che lavorano sul legno quali i dendrochronologi che come vedremo dal legno tirano fuori a volte datazioni precise all'anno che questa è una grande grandissima opportunità o comunque informazioni più generali sulle caratteristiche del luogo della foresta dove è stato tagliato l'albero con cui è stato prodotto quell'elemento di nave ecco quindi negli ultimi anni si stanno sviluppando molto questi studi dendrologici e dendrochronologici che ovviamente sono degli studi di tipo ambientale cioè ricostruzione degli ambienti antichi attraverso lo studio dei relitti ma ultimamente si lavora anche con ingegneri navali lo stiamo facendo per esempio anche noi con il progetto della circolazione del marmo nel mondo romano che permettono di conoscere le caratteristiche nautiche delle imbarcazioni facendo una serie di calcoli specialmente con software proprio di ingegneria nautica quindi software non fatti per l'archeologia non creati per l'archeologia ma che possono essere utilizzati anche in ambito archeologico come Orca 3D che è un plug-in di Rhinocerons che stiamo utilizzando da un paio d'anni per questo tipo di studi nel caso del progetto di carichi di marmo per esempio mancando l'evidenza del resto l'igno perché questi grandi carichi di marmo romani quasi mai conservano resti linei per tentare di ipotizzare le dimensioni minime delle imbarcazioni che li trasportavano abbiamo deciso di collaborare con un ingegnere navale che sulla base di quel carico con quel peso e quell'ingombro ma specialmente quel peso ci fa dei calcoli appunto per identificare le caratteristiche di massima dell'imbarcazione che li trasportava ma ultimamente le ricostruzioni le modellazioni 3D dei relitti quando lo scafo è conservato stanno permettendo poi di fare come si diceva all'inizio una serie di simulazioni delle caratteristiche nautiche anche in condizioni di navigazione estreme quindi simulando un mare agitato in tempesta e quindi valutando quello scafo ricostruito a che tipo di mare poteva affrontare cioè con onde alte quanto vento forte quanto eccetera quindi tutta una serie di simulazioni che altrimenti potreste fare solo ricostruendo una nave dal vero con i costi che comporta e con i rischi che comporta perché è chiaro che spingersi troppo a stressare una nave in navigazione può anche provocare il suo naufragio naturalmente grande attenzione in genere per le scienze dure diciamo le scienze che si occupano di geomorfologia ricostruzione dell'ambiente o palinologia ad esempio con lo scambio reciproco che offre relitto che da un lato è gode della collaborazione dei geomorfologi per ricostruire le linee di costa dall'altro offre un indicatore un marker fondamentale per i geologi pensiamo a quei relitti molti che troviamo lungo le spiagge bene sono relitti che sia che siano ancora in acqua sia che siano interrati a causa dell'avanzamento della linea di costa emblematico è il relitto di Valleponti il relitto romano di Valleponti vicino a Comacchio ecco in entrambi i casi sono marker per conoscere l'andamento della linea di costa cioè voi sapete che il relitto è datato a un secolo l'avete datato se siete bravi l'avete datato bene per un geologo quello è un elemento di datazione importantissimo per conoscere gli andamenti della linea di costa che altrimenti hanno delle datazioni abbastanza approssimative quindi confronto reciproco con i geomorfologi specialmente quando andiamo a studiare i relitti vicino alla linea di costa oppure quando li andiamo a studiare in in acqua interna e quindi con l'esigenza di ricostruire l'ambiente in cui navigavano e quindi la necessità di lavorare con i geologi siamo in chiusura vediamo rapidamente i contesti di giacitura che sono intanto vediamo i contesti di giacitura sono legati ai motivi per cui una nave diventa relitto beh diventa relitto principalmente per le condizioni meteo cioè una nave affonda perché durante una tempesta il mare ha la meglio e ne provoca l'affondamento ma possiamo avere situazioni anche diverse uno scontro militare un atto di pirateria con affondamento un auto affondamento errori umani difetti di costruzione come nel caso della base oppure incendi però per esperienza vi dico che quando siamo riusciti a capire insomma il motivo dell'affondamento in linea di massima la motivazione è sempre quella diciamo naturale ma possiamo avere situazioni particolari di affondamento repentino in porto come nel caso degli tsunami che sappiamo essersi verificati all'interno del porto di Anikapi quindi maremoti improvvisi che hanno rovesciato le navi agli ormeggi stessa cosa nel porto fluviale di Pisa Pisa San Rossore navi agli ormeggi che in più periodi sono state rovesciate dalle piene in questo caso dalle piene del fiume ecco quindi i fondamenti repentini in porto sono qualcosa di estremamente frequente e questo cosa comporta questo e alle situazioni di abbandono più rare comporta che nei porti antichi nei bacini portuali antichi spesso noi troviamo relitti all'interno nei contesti anche urbani pensiamo a Napoli pensiamo a Marsiglia pensiamo a Istanbul troviamo all'interno di questi bacini portuali ancora resti di relitti pare straordinario eppure un po' per l'abbandono ma molto per affondamenti repentini navi che non si è riusciti a recuperare perché sepolte dai sedimenti giacciono sotto i sedimenti e sono arrivati fino a noi e vengono messi alla luce in condizioni spesso di archeologia d'emergenza sono ritrovamenti casuali fatti in pieno contesto urbano durante scavi urbani con tutte le problematiche che questo comporta casi molto particolari che non riguardano il Mediterraneo sono le cosiddette barche rituali quindi barche sepolte volontariamente per esempio nel contesto scandinavo medievale dentro questi tumuli come la famosa nave di Satonghu oggetto anche di un di un bel film di recente sepolte ritualmente con il principe all'interno il dignitario all'interno o sotto oppure il caso egiziano molto particolare di navi smontate e seppellite vicino al faraone destinati ad essere ricostruite e rimpiegate nell'aldilà per il viaggio verso l'aldilà ma delle navi dobbiamo sapere che comunque in genere raramente si buttava via il legno quindi la nave o veniva rimpiegata per qualche scopo o veniva smontata e le parti singole rimpiegate nel caso del rimpiego abbiamo strutture portuali ad esempio che spesso anche a Venezia strutture di sponda mostrano pali e tavole di fasciame che sono elementi se guardate con attenzione sono elementi navali oppure abbiamo intere navi rimpiegate caso un po' più raro ma a San Marco in Boccalama in Laguna Sud la Galea e la Rascona la barca a fondo piatto sono state reimpiegate come casseri di contenimento utilizzate quindi dai monaci dell'isola nel monastero come casseri di contenimento e quindi i contesti sono quello marittimo ovviamente il contesto lacustre abbiamo detto che in mare nei grandi laghi anche italiani si navigava e quindi possiamo avere reliti di ogni epoca questi che vedete sono i più famosi sono quelli di cui parleremo del lago di Nemi che sono un po' particolari oppure in contesto fluviale come si è detto dove le condizioni di navigazione sono abbastanza tranquille ma non si esclude qualche piccolo naufragio nei fiumi più che altro si trovano grandi quantità di piroghe questi monossoli questi tronchi scavati utilizzati dall'età preistorica fino all'età medievale anzi specialmente nell'età alta medievale oppure i contesti lagunari e l'esempio di San Marco in Boccalama che abbiamo fatto si può riproporre anche in questo caso il contesto continentale appunto è quello dei porti interrati quello che vedete è il porto di Napoli che pochi anni fa è stato scavato per costruire una stazione della metropolitana e ha restituito delle navi romane forse abbandonate e la nave di Valleponti citata prima invece naufragata in origine lungo la spiaggia per l'avanzamento della linea di costa poi è stata si è trovata completamente interrata è stata scavata completamente interrata e con questo chiudiamo la lezione che proseguirà domani toccando l'aspetto anche degli interrogativi principali che l'archeologo chiamiamolo navale nautico in questo caso si pone quando studia un relito grazie